Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è sempre domenica 19 settembre 2010 e si vede proprio che sto invecchiando, sto invecchiando, magari le maledizioni di qualcuno che mi vorrebbe bruciare vivo sulla pubblica piazza mi faranno invecchiare prima, anzitempo, anzitempo, e sto invecchiando perché mi stavo dimenticando che dopo il 19 settembre viene il 20 settembre e il 20 settembre è una data molto importante, anzi il 20 settembre 2010 è una data importantissima perché ricorre dal 20 settembre 1870 al 20 settembre 2010 quanti anni sono passati? 140 anni. Domani ricorre il 140esimo anniversario della cosiddetta Brescia di Porta Pia, quando i bersaglieri, comandati dal generale, mi pare fosse un generale e tra l'altro anche il padre di un altro grande generale, il generale Raffaele Cadorna con i bersaglieri su A, presi accannonate le mura di Roma e con i cannoni fecero una breccia in quella parte delle mura di Roma dove c'era quella che si chiamava Porta Pia e da Porta Pia i bersaglieri del regno dell'Italia, comandati dal generale Raffaele Cadorna, dilagarono dentro Roma e quindi Roma e Lazio, il 20 settembre 1870, Roma e Lazio andarono a far parte del regno d'Italia che era nato poco prima, nel 1861. Poi c'è l'altra data che è relativa ai bordelli, perché i bordelli stranamente vennero chiusi a seguito della legge Merlin il 20 settembre 1958 e dal 1958 ad oggi sono passati mi pare 52 anni. Sono 52 anni che gli italiani non vanno più nei bordelli e devono accontentarsi delle schiave del sesso che ci sono un po' dappertutto. Prima della legge Merlin andavano nei bordelli dove le donne si prostituivano ma senza essere schiavizzate e dove nei bordelli una volta ogni dieci giorni lo Stato mandava i medici. Dopo la legge Merlin, 20 settembre 1958, le puttane, scusatemi ci sono ancora, forse più di prima, però stanno lungo le strade o in certi quartieri picchiate dai loro padroni, dai loro schiavisti e con tante belle malattie in circolazione. Ora soffermiamoci brevemente sulla breccia di Porta Pia, la breccia di Porta Pia. Relativamente a Porta Pia, ribadisco che i bersaglieri impiati dal re d'Italia erano comandati da Raffaele Cadorna. Guarda caso poi che le tradizioni si tramandano di padre in figlio. Il generale Raffaele Cadorna, che era diventato famoso, dopo diventò famoso appunto per essere entrato a Porta Pia, non è che ci voleva tanto, per carità, non ci voleva tanto il regno d'Italia, il Papa non ci aveva questo grande esercito, parliamoci chiaro, la resistenza lo sappiamo bene, fu solo simbolica, la resistenza pontificia. Un figlio di Raffaele Cadorna, Luigi Cadorna, ebbe poi l'incarico di comandare l'esercito italiano, tutto l'esercito italiano, Luigi Cadorna, e quando scoppiò la prima guerra mondiale, che per tutti gli altri contendenti fu la prima guerra mondiale, per noi fu la prima guerra mondiale, ma anche la quarta, la quarta guerra di indipendenza, perché noi volemmo entrare in guerra per portare via all'impero austro-ungarico il Trentino Alto Addice e il Friuli Venezia Giulia. Ora, siccome il Trentino Alto Addice e il Friuli Venezia Giulia stavano tutti in alto, gli austriaci avevano tutte le loro fortezze tutte in alto, il generale Luigi Cadorna, figlio di quel Raffaele Cadorna che era entrato in porta via, e lì c'era tutto l'esercito italiano, l'esercito italiano, l'Italia, ha schierato lungo un fronte, lunghissimo, che andava dalle Alpi fino all'Adriatico, va bene? L'esercito italiano stava in basso, gli austriaci stavano in alto, e Luigi Cadorna magari pressato, che so, dalle forze politiche credentistiche, pressato, pressato e mandò allo sbaraio il nostro esercito. Noi si andava avanti in salita, mitragliati, super mitragliati dagli austriaci che stavano lassù in alto, e noi moriva, era strage, per ogni metro conquistato morivano tantissimi soldati italiani, una carnicina proprio, era sufficiente che il generale Luigi Cadorna stesse fermo, stava fermo, e aspettava lo svolgimento delle azioni belliche sugli altri teatri bellici erano in pianura. La Germania contro la Francia in pianura, la Germania contro la Russia in pianura, se no noi ci avevamo le montagne. Poi successe quello che deve succedere perché, per tanti vicendi, a un certo punto gli austriaci, gli austriaci ci saltarono addosso a un certo punto. Nel 1917 ci fu quella che si chiamò la rotta, rotta di Caporeto. Rotta non significa sconfitta, una sconfitta, perché quando ci sono delle battaglie ci può essere la vittoria, la sconfitta, però si possono vincere tante battaglie e perdere la guerra. Non è detto che se uno subisce una sconfitta poi perde la guerra, ma quella di Caporeto non fu una sconfitta, fu una rotta. Rotta vuol dire che dopo di essa non può esserci una richiesta di armistizio, perché con la rotta vuol dire che l'esercito si è squagliato. Io mi sono documentato, tanto per stare in tema di Porta Pia, 20 settembre 1870, il generale Raffaele Cadorna che entra a Porta Pia, però poi suo figlio Luigi Cadorna ebbe un destino molto amaro. Molto amaro perché con la rotta di Caporeto alla fine di ottobre del 1917 noi in pochi giorni perdemmo metà dell'esercito, metà, in pochi giorni. Allora 11.000 caduti, ma questo è roba da poco, 29.000 feriti, addirittura 280.000 prigionieri, così nel giro di pochi giorni gli austro-ungarici si presero 280.000 prigionieri. Ovviamente ci furono pure 350.000 disertori, cioè 350.000 disertori che se l'ha dietro a gambe e sbandate. Quasi due terzi dei materiali distrutti o abbandonati per tutti i territori strappati con tanto sangue. Un milione e 600.000 militari in ritirata per più di 150 chilometri fino alla linea del piave, capito? Un milione e 600.000 soldati, cioè quelli che erano rimasti dopo, quelli che erano scappati via, tutti ritirata. E che successe? Che i francesi ci diedero una mano e siccome in Francia cominciavano a sbarcare gli americani, che poi tra la fine del 1917 e l'inizio del 1918 furono diversi milioni i soldati americani che sbarcarono in Europa e vennero da noi, ci sbrigarono i francesi e gli americani a mandare tante divisioni su piave. E se no l'Italia doveva chiedere la pace, perché l'esercito austro-ungarico in quel momento, da quel momento lì, dalla fine dell'ottobre 1917, se non fossero arrivate le divisioni francesi, anche inglesi e americane, tra cui Ernest Hemingway, l'esercito austro-ungarico scendeva giù, in dieci giorni arrivava in Sicilia e il regno d'Italia era finito. E lui si cadornasse, se la vide brutta, qualcuno mi pare ha detto pure che voleva suicidarsi, poi arrivò Armando Diaz e le cose andarono meglio, perché ormai gli impedi centrali non ce la facevano più. Notate bene che gli impedi centrali, perché persero la prima guerra mondiale, persero la prima guerra mondiale senza avere mai subito una sola sconfitta, neanche una sconfitta. E la persero per l'esaurimento, non ce la facevano più dopo cinque anni in guerra, in più erano entrati in guerra anche gli americani, diversi milioni di soldati sbarcarono in Franza. Allora, vedete le sorti, non è che il figlio può ripetere le gesta del padre, dipende anche dalle circostanze, non solo dal singolo individuo, le circostanze. Però io se fossi stato al posto del generalissimo Luigi Cadorna, l'esercito italiano l'avrei lasciato fermo. Stavamo lì a guardare gli austriaci sulle cose, sulle fortezze, e vediamo chi si stancava prima, chi si stancava prima, vediamo chi si stancava prima. Poi mi volevano rimuovere, rimuovetevi, andateci voi a comandare l'esercito italiano, fatevi salire voi lassù i soldati italiani. E così casca, casca, il 20 settembre 1870 finisce il potere temporale dei papi, finisce. Dopo i papi si arrabbiarono un po', però dopo tanto tempo dissero che quasi quasi, cioè dentro la Chiesa Cattolica si disse che quasi quasi quell'evento fu un evento providenziale, perché il potere temporale per la Chiesa era un fardello, perché mi è rimasto pure adesso il potere temporale, mi pare che ci sono tutti gli edifici di propaganda fide, però era un po' più grosso quel potere temporale là. E il 20 settembre, data fatidica, poi ci sono i bordelli, ci sono i bordelli, questa qua di Lina Merlin che era una socialista, io ve l'ho sempre detto che ho sempre fatto le mie battaglie con i radicali, per esempio voi giovani, ma che ne sapete voi giovani di Marco Pannella, per voi giovani Marco Pannella un vecchio rincoglionito lì tutti i capelli bianchi, chi è? Voi dovete conoscere Marco Pannella negli anni 50, 60, il divorzio c'era in tutto il mondo, ma in Italia no, il divorzio c'era in antica Roma, in antica Grecia, c'era in Francia dappertutto, in Italia no, e ce l'ha portato Pannella al divorzio e dice ma i cattolici non sono contenti del divorzio, vabbè ma i cattolici non sono complicati a divorziare, loro non divorziano, il problema è risolto, va bene, e dice vabbè ma lo Stato decise di dar retta a Pannella e Pannella portò il divorzio in Italia, poi portò pure l'aborto, uh che ci sono dei giovani che me ne dicono di tutti i colori, chi è per l'aborto è contro la vita, ma quale è contro la vita? Ho detto io, ma che ne sapete voi? Cosa ne sapete voi? Che quando non c'era l'aborto legale c'era l'aborto clandestino, ma che ne sapete voi? Ma c'era l'aborto clandestino e l'aborto clandestino lo facevano proprio i ginecologi cattolici lo facevano, capito? Ma tacete, tacete ragazzi, prima di parlare informatevi, quando Pannella portò l'aborto in Italia non è una cosa bella l'aborto, si pensate che l'aborto c'era persino nella Spagna del dittatore, l'aborto terapeutico, nella Spagna del dittatore Francisco Franco, l'aborto c'era persino nella Grecia dei colonnelli, in Italia non c'era voi che ne sapete di queste cose voi che non eravate ancora nate, poverini, che ne sapete voi? Io le ho conosciute le donne che andavano ad abortire a pagamento dai ginecologi che venivano chiamati cucchiai d'oro perché ci facevano dare un sacco di soldi, oppure andavano dalle mammane, si chiamavano le mammane, le praticone anche a rischio della vita, generano gli aborti una volta, cosa pensate? Che perché non c'era l'aborto statale non c'erano gli aborti? Sarebbe come dire che i giovani non si drogano perché la droga è proibita, non è legalizzata, ma andiamo, ma usate il cervello ragazzi, ma che cosa vi hanno insegnato a scuola? Ma perché faccio questo discorso? I bordelli no, io sono sempre stato d'accordo con quelle leggi di radical socialista e socialista e via di seguito, invece no, con i bordelli no. Perché sbagliò Lina Merlin? Perché con l'abolizione delle case chiuse Lina Merlin volle acchiappare il meglio, ma un proverbio dice che il meglio è nemico del bene, non si possono fare le cose perfette, lei disse che voleva liberare le donne, proprio lo stesso errore che ha fatto Cosoli, Mario Capanna, il quale disse voglio che tutti abbiano una laurea, tutti devono avere l'accesso alla laurea, a lei tutti via su in alto, senza pensare alle conseguenze, le sue conseguenze l'ho già detto e ridetto in tanti video, è che oggi sono tutti laureati, tutti disoccupati e tutti incazzati e così Lina Merlin dice libero le donne, lo Stato non può fare il pappone, effettivamente i bordelli erano sotto leggi dallo Stato, venivano controllati dallo Stato, ma diciamoci la verità, le donne che facevano le puttane, era meglio che stavano nei bordelli o è meglio che stanno oggi sulla strada? Perché là nei bordelli ci andavano magari volontariamente, volontariamente in un certo senso, ma quelle che stanno per strada non è che sono tutte volontarie quelle che stanno per strada, dietro di loro ci sono le organizzazioni schiaviste, c'è tutto il movimento delle belle ragazze dell'est, belle, belle, dalla Romania, dalla Bielorussia, belle, belle, così belle, le vedi per strada, altro che le nostre attricette lì che stanno e fanno le vallette in televisione, queste stanno in televisione perché sono raccomandate e quelle invece stanno per strada e schiavizzate, picchiate, il pappone o lo schiavista gli dice guarda che tu mi devi portare la cifra Natale d'Italia a fine giornata sotto in un sacco di botte e quindi sono anche costretti a far finta di essere gentili col cliente. La Lillina Merlin vuole il meglio e cosa c'è rimasto a noi? Il meglio nemico del bene che adesso la situazione è peggiore perché la prostituzione, non è che ha abolito la prostituzione lei e dice no, non devono stare sotto il controllo dello Stato le prostitute e vabbè adesso stanno sotto il controllo degli schiavisti, ditemi voi se la loro situazione è migliorata, stesso discorso lo faccio per la droga, se fosse per me è così, la pensa pure panela, guarda io mi sono anche stufato ragazzi di farvi, perché su questa faccenda della droga ho già fatto tanti video leggendo alcune pagine dell'Iliade e dell'Odissea perché se voi leggete l'Iliade e dell'Odissea trovate dei passaggi dove i aggivi, gli argivi facevano uso di droga, ma quanti video che ho fatto, proprio vi ho mostrato i testi e vi ho letto i passaggi dove l'oppio veniva miscelato nel vino per star bene. La droga non è la stessa cosa? Sta in mano la malavita la droga, la malavita è tutta contenta che lo Stato fa il proibizionista, la malavita ringrazia, ma invece la droga dovrebbe essere in mano dello Stato, male minore e tanti giovani si drogano pure se la droga è proibita, tanti mi dicono, ma se fosse liberalizzata si drogherebbero tutti, io rispondo no, si drogherebbero tutti quelli che vogliono drogarsi, come adesso, come adesso, adesso anche se è proibita i giovani si drogano lo stesso, anzi dicono siccome è proibita io faccio il trasgressivo, faccio il trasgressivo, capito? Faccio il vir, il vir, il vir, magari darò anche un sacco di botte a mamma e a papà, perché la droga del contrabbando costa di più di una droga gestita dal monopolio di Stato, ma se fosse per me prenderei, che so, quelli che attualmente io liberalizzerei le droghe tutte, 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 non ci sono in vendita regolare i superalcolici, stessa cosa, se uno si vuole ammazzare e beve 5 litri di whisky, che so, si va a buttare sotto il treno, se uno, non è forse, non è un cittadino italiano libero di comprarsi 5 litri di whisky o 10 litri di whisky, ma è che lo Stato può stare lì a controllare se uno si vuole ammazzare? In ogni caso, whisky è in libera circolazione, whisky, rum, gin, tutto quello che volete voi, la grappa, eccetera, è così con la droga, bisogna distinguere tra uso e abuso, ve l'ho sempre detto, uso e abuso, anche delle automobili noi possiamo fare uso o abuso, l'uso è quando prendi una quantità di droga che non ti fa male, si deve insegnare, si deve, così per gli draconici, in Italia, per il fatto che nei negozi ci sono delle bottiglie di whisky, non è che l'Italia è un paese di ubriagoni, che stanno tutti a bersi 3-4 litri di whisky al giorno, no, andiamo, su, è così, e la droga dovrebbe essere messa in mano allo Stato, cari amici, ci guadagnerebbe lo Stato, ci guadagnerebbero i ragazzi, perché costerebbe di meno la droga e sarebbe di qualità, non sarebbe tagliata, perché la malavita a volte la taglia, e soprattutto costerebbe di meno, i ragazzi non dovrebbero più picchiare mamma e papà, e la droga costa, e mica tutte le famiglie ci sono i soldi per la droga, allora che fanno i ragazzi? Picchiano mamma e papà, quanti casi di ragazzi, cioè di mamme che vanno a prostituirsi per pagare la droga ai propri figli, oppure vanno a rubacchiare, vanno a rubacchiare, capito? Si alimenta il circolo, il circolo vizioso della malavita in questa maniera, e cosa volete fare, e quindi anche in questo caso con i bordelli il male minore sarebbe quello di fare come con la droga, come è stato fatto con l'aborto, come è stato fatto con l'aborto, il male minore è un male, l'aborto è un male, è un male minore, perché il male peggiore era fare l'aborto con l'antestino, perché gli aborti li facevano pure prima che lo Stato facesse la legge per legalizzare gli aborti, si facevano anche prima gli aborti, forse se ne facevano ancora di più, d'accordo? Non è che gli aborti sono arrivati in Italia quando è stata fatta la legge 184, ma no, c'erano pure prima, si trattava di sistemare una certa situazione che già c'era, e già c'era, capito? E così con i bordelli, con i bordelli è stato compiuto un errore, è stato compiuto un errore, perché adesso le donne, anziché stare nelle case chiuse controllate dallo Stato e stanno lungo le strade controllate dagli schiavisti, e dite voi se è stato un passo in avanti o un passo indietro, vabbè cari amici, io qua mi fermo, ho fatto il mio secondo dovere quotidiano, d'accordo? Domani è il 20 settembre, mi piacerebbe tanto vedere se i giornali e le televisioni magari mettono insieme questi due date, 20 settembre 1870 porta via, e 20 settembre 1958 i bordelli. Va bene cari amici, grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.